Ti becchi 3 milioni l'anno e le uniche cose per le quali sei pagato sono allenarti e giocare al pallone. Stai sempre sui giornali per le tue continue cazzate! Domenica, statene pure a casa, perché non giochi. Che cosa insegna? Letteratura, filosofia e storia. Un esame a settimana. Se non passa, non gioca. Lei vuole che un calciatore studi per prendere la maturità. Mi pare una cazzata, eh? Dai. Non mi tocca mai. Se devi imparare a gestirla, questa rabbia, tu non pensi abbastanza. Mi pare che manco te pensi troppo. E' la prima volta che mi ripiace questo lavoro. Non gliene frega niente a nessuno di questo ragazzo. Mi pare che c'è poco ma qui. Derimano il suo. Grazie a tutti